Un pensiero per i morti provocati dal Covid-19. Papa Francesco, nella messa di stamattina, ha pregato in modo particolare per i defunti che sono stati sepolti nelle fosse comuni. Preghiamo oggi per i defunti, coloro che hanno morto dalla pandemia e anche per, in modo speciale, per i defunti, diciamo così, anonimi. Abbiamo visto le fotografie delle fosse comuni. Nel corso dell'Omelia, Francesco ha ricordato che annunciare Gesù non è proselitismo, bensì testimonianza. Testimonianza e preghiera vanno insieme. Senza testimonianza e preghiera non si può fare predicazione apostolica, non si può fare annuncio. Questa è la grande regola per il nostro apostolato, ha aggiunto il Papa, che ha raccontato l'episodio di una donna che si è avvicinata a lui dicendo di aver convertito due ragazzi. E la Signora era buona, buona, ma sbagliava. Io ho perso un po' la pazienza e ho detto, ma senti, tu non hai convertito nessuno. È stato Dio a toccare il cuore della gente. E non dimenticarti, testimonianza sì, proselitismo no. Dio a toccare il cuore della gente.